E dopo due anni di stop decretati dall'emergenza sanitaria da coronavirus, anche a Barletta tornano i principali riti del venerdì santo e gli appuntamenti della pietà popolare. La città di Barletta potrà tornare a venerare per le vie della città due dei suoi compatroni, perché non tutti sanno che sia il Santissimo Sacramento sia il Santo Legno della Croce sono nel patronato cittadino insieme alla Vergine dello Sterpeto e a San Ruggero naturalmente. Si tratta di un momento evidentemente importantissimo per la città, in particolare quello delle 13.30 e delle 15 del pomeriggio, quando la processione eucaristica penitenziale sarà appunto per le vie del centro e si tornerà ad ascoltare finalmente anche le parole del Vescovo a Piazza Pribiscito, di Sua Eccellenza Monsignor D'Ascenso, che credo quanto mai, come quest'anno, saranno importanti, sarà importante ascoltare. Possiamo tentare di datarle? Dunque, questa è una bella domanda, perché a differenza delle altre città della diocesi, le due grandi e solenni processioni a cui diamo vita qui a Barletta risalgono probabilmente agli inizi del XIV secolo. Noi non abbiamo documenti che le datino a quella data, però sappiamo che per volontà dei sovrani angioini e dei principi di Taranto e perché qui a Barletta dal 1294 circa si installa il Patriarcato di Gerusalemme e poi l'Arcidiocesi di Nazareth, questa città diventa una sorta di città sulla quale la corona angioina pone gli occhi, quasi volendone fare una capitale orientale da questo punto di vista. E cosa succede? Succede che la devozione per l'Eucaristia, che era molto forte nella Regina Sancia e moglie di Roberto D'Angio, e la devozione nei confronti del Santo Legno della Croce, che qui viene venerato proprio perché c'è il forte legame con la Terra Santa, da quel momento, siamo all'inizio del Trecento, cominciano a crescere in un modo che probabilmente è vorticoso, tanto che anche la città vive un momento di rifondazione urbanistica intorno a queste devozioni.